Dal cuore dell'Abruzzo al centro dell'Europa, questo lo slogan dell'Interporto d'Abruzzo a manopello, la piattaforma logistica e la porta di accesso dei traffici internazionali che hanno origine o destinazione dal nel centro Italia, il luogo ideale per chi vuole sviluppare il proprio business logistico. Con un finanziamento PNRR di 10 milioni di euro, soggetto attuatore ZES Abruzzo, si intende sostenere il ruolo strategico di questo hub potenziando l'infrastruttura ferroviaria e la capacità di accoglienza e stallo merci e automezzi. Oggi il taglio del nastro alla presenza del presidente della regione Marco Marsiglio, del sindaco di Manopello di Luca e del commissario ZES Abruzzo Mauro Miccio. Noi abbiamo un compito che era quello di far partire sei opere che sono tutte logisticamente importanti per l'Abruzzo. Questa è particolarmente cara perché intanto è l'unica che sta a Pescara, provincia di Pescara, mentre tutte le altre cinque stanno in provincia di Chieti. La seconda questione è che è un interporto esistente che viene raddoppiato in termini di strutture e di capacità di accogliere non solo mezzi, carri, camion, che possono in qualche modo fare la logistica di ultimo miglio, possiamo dire così, ma ha la possibilità con binari da 750 metri che saranno attrezzati ad aggiungersi a quanto già c'è, con rotatorie, punti di incontro, parcheggi ulteriori, consentiranno di portare a casa treni che possano partire da qua per tutta Europa perché lo standard ferroviario dei 750 metri che si unisce anche ai lavori che sta facendo il RFI per quanto riguarda la parte ferroviaria di collegamento con la Roma Pescara, come è noto a tutti, che si aggiungono ai lavori che farà l'amministrazione di collegamento con l'autostrada, 25 per migliorare la viabilità, renderanno sempre più importante a livello internazionale questo interporto. Un Abruzzo al centro del commercio internazionale prosegue Miccio attraverso le opere ferroviarie, autostradali e dei porti. L'Abruzzo diventerà il centro degli scambi nazionali e internazionali, conclude il commissario.